Salve a tutti ragazzi, sono sempre Momenzo, benvenuti su un nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con la carriera del attore con il nostro West Time Signori, mi raccomando, continuate a supportare al massimo questa serie, vi ringrazio tantissimo per il supporto che avete dato negli episodi di Calcio al Mercato Mi raccomando, continuate così perché il bello di questa carriera non è solo il Calcio al Mercato, ma sono proprio le partite Perché ci divertiamo tanto a utilizzare questa squadra e spesso vengono delle partite veramente, ma veramente clamorose Quindi mi raccomando, continuate con questo mega supporto, anche perché oggi, episodio molto importante, incomincia la Champions League Quindi partiamo con l'Huddersfield dove faremo un po' di Calcio al Mercato e poi proseguiremo con la prima contro il Bayer Leverkusen di Champions League Girone molto insidioso, bisogna fare un po' di attenzione Come detto ragazzi, mi raccomando, a schermo vi lascerò l'ultimo video, anche in descrizione a fine video Dove potrete andare a vedere gli ultimi due colpi di Calcio al Mercato che ho fatto Mi raccomando, adesso ci saranno degli spoiler, se non l'avete visto, andatelo a recuperare Come detto ragazzi, dovremo fare dei cambi di formazione, anche perché c'è Tierney che è infortunato per qualche giorno ancora Quindi dentro Masuaku io direi di cambiare quasi tutto l'11 titolare Voglio provare a fare questa cosa Eccoci qua dunque con questo 11 abbastanza particolare Onana, Masuaku, Matip, Balbuena, Fredericks, Zelinski, Reis, Lukman, Soler, Almiron e Werner Cambiano ragazzi 9 undicesimi dalla formazione titolare Gli unici due ancora in campo sono Onana e Timone Werner Dunque signori, siamo pronti, andiamo in campo, sempre sul pezzo e forza West Ham Gran palla recuperata da Zelinski che inserisce subito Werner Ci prova di prima attenzione col destro Palla larga alla destra del portiere signori, subito una prima occasione per il West Ham Con questo destro di Werner non so se poteva andare ancora un pochettino avanti La palla sfiora, va fuori di qualche centimetro alla destra di Magnan Almiron l'allarga per Lukman, attenzione, Lukman contro il suo avversario Doppio passo, Lukman passa dall'area, la mette in mezzo, lunga Magnani in calcio d'angolo Ancora Zelinski, gran palla recuperata La gioca Werner per Almiron E Mancino, Almiron, prova una finta Entra in area, Almiron col Mancino Steso però, eh Dopo il tiro steso Almiron Che se ne è andato veramente, veramente bene Ancora Magnan, protagonista di questo inizio di match Almiron, aspetta l'inserimento di qualcuno C'è quello di Zelinski, col destro giro Zelinski Un destro abbastanza morbido, lento Magnan riesce a posizionarsi e metterla in calcio d'angolo Masuaku, al centro dove c'è Zelinski Attenzione, Zelinski può liberare il destro Zelinski Sta cosa che vengono stessi E allora era rigore anche prima, ragazzi E allora era rigore anche prima Perché se qui, Zelinski tira La pallava fuori, fischi punizioni Prima era calcio di rigore Perdonatemi ragazzi, ma è così C'è Soler, ma c'è anche Almiron ben posizionato Vediamo se ce la possiamo fare Soler, per Almiron Magnan, aveva capito tutto Almiron Werner Dai, ti prego arriva c'è Zelinski Sì, c'è arrivato La gioca bene a Soler Attenzione, inserimento di Werner L'appoggio L'appoggio di Timone È tutto buono? Ti prego, cambia il risultato Sì, è buono È buonissimo È tutto buonissimo, signori Timone Werner La sblocca Timone Werner La sblocca Mamma mia, raga Pensavo Di non riuscire mai a sbloccare Da sta partita Ottimo Qui il filtrante di Soler Werner è in posizione regolare Riesce con il tocco di destro A metterla in porta E a battere finalmente Questo maledetto Magnan Che sembrava insurmontabile Bene così ragazzi La sblocchiamo con il gol di Timone Werner Zielinski La ricopriamo Al Miron Soler Werner Nello stretto Adesso il West Ham Lukman passa da Ries Ci provo col mancino Ries La palla è alta Sopra la traversa Non c'è di aviazione Ma ci sono i primi Cambi Del West Ham Fuori Werner Dentro Arnautovic Ragazzi Eh sì Dentro Greenwood Fuori Al Miron Subito una gran palla Ricoperta da Greenwood Si è andato benissimo Zielinski Poi bella La palla per Arnautovic Attenzione Arnautovic Davanti a Magnan Il destro di Arnautovic Che te sei magnato Fratello bello Che te sei magnato Arnautovic Però subito Una grande giocata Di Greenwood Oh mamma mia Arnautovic Questo era da fare Arnautovic Fa inserire Greenwood Attenzione perché La palla in qualche modo Torna Zielinski Zielinski per Greenwood Davanti a Magnan Non ci credo Greenwood Greenwood 2-0 Proprio lui Proprio il ragazzino Di 17 anni Che esordisce Con la maglia Dell'Uvestem E sigla subito Il suo primo gol Bravissimi qua Bravissimi Ottima la sponda Di Arnautovic Poi qui fortunati E ottimo Zielinski Il tiro di Greenwood Non è Un gran che Però la buttata in porta Quello è L'importante Signori Quello è l'importante Proprio Greenwood Proprio Greenwood Signori Attenzione qui Ad Aranguiz La stecca La stecca La stecca Di Balbuena Direi Sì 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 Ho cercato di Intervenire sul pallone Ma Quello su Cutrone È decisamente fallo Da rigore Per lo stesso motivo Per cui C'è stata la punizione In precedenza Ma per il quale Non c'è il rigore Per noi Vabbè Fa lo stesso Non è vero Finbogason Finbogason Contro Nana Te prego Nana Su Finbogason Ma vai Ma vai Finbogason Ma che rigore è Ma neanche Ma neanche Ranocchia Lì tira così Ma cos'è quella roba Ragazzi per chi non lo sa Ho un conto in sospeso Con Finbogason Che ogni volta che lo incontro Mi fa una marea di gol Finisce qui signori Battiamo Laddersfield 2-0 Con i gol di Timone Werner E Greenwood Il 17enne Greenwood Bene così signori Bene così Ottima partita Direi che abbiamo Strameritato La vittoria Vediamo un attimo Il migliore in campo Che secondo me Doveva essere Al Miron Però Zelensky Che ha giocato Più Più tempo Diciamo così Forse è giusto Insieme a Werner Dargli Il titolo Di migliore in campo Bene ragazzi Strasoddisfatto di voi E adesso Testa ragazzi Perché c'è La Champions League Esordio in Champions League Contro il Bayer Leverkusen Attenzione ragazzi Perché ci arriva un'offerta Da parte del Liverpool Per Marco Arnautovic Certo è il Liverpool Però Se riusciamo A portarci a casa Un 35 milioni Ragazzi Onestamente Si potrebbe quasi fare Visto che il Liverpool Comunque ha un buon budget È possibile anche Tirarci fuori Una buona cifra Si sono alzati a 29 Ragazzi Ma non è ancora Il prezzo massimo Che posso chiedere Ci abbassiamo Noi a 37 E 400 Vediamo se loro Si alzano ancora 31 e 100 Raga 31 e 100 Penso sia giusto Andargli incontro Vi dico la verità 35 milioni e 6 Ok ragazzi Ok Più di quello Che potevamo chiedere Più di quello Che potevamo chiedere Di certo Se Arnautovic Se ne va Per questa cifra Un Trentenne Abbiamo fatto Penso La scelta Giusta Va bene Ci penseremo Poi a gennaio Nel caso Stituirlo adesso Dobbiamo stare qui Con la testa Perché c'è la Champions League Io non so perché Sia Lanzini che Neves mi hanno fatto Delle storie Perché non hanno Giocato una partita Vabbè È un po' Esagerata questa cosa Vediamo un attimo Se è tornato Tierney Dovrebbe essere tornato Sì eccolo lì Bello No 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 fratello Ci andiamo dunque Con questo 11 signori Cambia solo Masuaku Nell'11 titolare Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza West Ham Ecco qui l'11 titolare Del Bayer Leverkusen Radecki In porta Lovren A completare La coppia Difensiva Insieme a Vox Mendia a sinistra Bender a destra Core Samson Sottocampisti centrali Bayley Bellarabi Con Martinez Ad accompagnare Maximiliano Gomez Signori È una formazione Insidiosa Molto insidiosa Ma noi siamo in casa Dobbiamo dare Il 101% Attenzione a Samson Bayley Passa dal centro Il destro di Bayley La traversa E poi In qualche modo Il West Ham Si salva Ma attenzione Perché il Bayer Leverkusen Sta iniziando a spingere molto E noi non riusciamo più A ripartire In qualche modo Forse adesso ce la facciamo Sì Werner Protegge Pala La gioca a Neves Si è inserito Avers Servito adesso invece Manuelito Lanzini Che ritorna dal centro Attenzione Al movimento di Werner Werner Servito adesso Col destro Rimpallato Ancora Una parata facile Per Radeschi Avers Per Lanzini Bellissima la palla Di prima attenzione Per Timo Werner Che deve lottare Con l'over Attenzione Werner 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 Davanti a Radeschi Werner Prova l'incrociato Per Radeschi E poi con il mancino Ancora Qui per fortuna Per fortuna c'era Neves Per Werner Timo Werner Ma era per Neves Che era entrato in area Di rigore Comunque Pareggio West Ham Signori Bene così Attenzione Triangolo Triangolo chiuso Con Fabregas Gomez per fortuna Dovrebbe essere in mezzo All'area Masuaku Prova a fermarlo Bravo Bravo Felipe Anderson Su Bender Poi Maximiliano Gomez La mette in mezzo Chiude tutto Didi Ma Arnautovic Porca miseria Ti sei addormentato Werner Poi ancora Arnautovic Attenzione Perché c'è Soler Che spinge Sulla fascia destra Due minuti alla fine Del match Signori Soler Rientra Sul mancino Poi la recupera Soler Col testo Soler Radieschi E poi Felipe Anderson Non riesce A ribadire in rete Finisce qui signori L'esordio in Champions League Un po' amaro Per il West Ham Pareggio 1-1 Contro un Bayern Leverkusen Ragazzi Che beccare il Bayern Leverkusen In terza fascia È veramente Veramente la fine E si è visto Perché sono forti Ho avuto il sangue Agli occhi Per tutta la partita Ma non sono riuscito A portarmela a casa Peccato Questo è il conto Delle azioni Ragazzi Secondo me il pareggio Ci può anche stare Noi abbiamo avuto Qualche occasione in più Ma Il Leverkusen Il Leverkusen Si è comunque Difeso abbastanza bene Devo ammettere È difficile passare Da quei due difensori Lì tra Vogt E Loveren Migliore in campo Lanzini Forse l'avrei dato Timo Werner Che si è sbattuto Un pochettino di più Attenzione ragazzi Perché il Victoria Persen Vince 2-1 Contro il Real Madrid E questa Questa potrebbe essere Un'ottima cosa Adesso Paradossalmente Abbiamo un punto in più Del Real Madrid Pazzesco Incredibile Solo nelle mie carriere allenatore Dopo pochi giorni Abbiamo subito il match Contro il Wolverhampton Non c'è un attimo di respiro Come vi ho detto Ed è per questo Che ho creato Una formazione lunga Formazione che oggi Però non vado a Cambiare più di tanto Solamente Lukman Al posto di Felipe Anderson Direi Sì Perfetto signore Andiamo in campo Dungo con questo 11 Sempre sul pezzo E forza West Ham Lanzini Neves C'è largo Caimano Avers Servito in questo momento Il tedesco Avers la mette in mezzo Dove c'è Lukman Che fa la sponda al centro Dove non c'è nessuno Però L'idea non era per niente male Attenzione perché ancora West Ham che spinge Avers Lanzini indietro per Ndidi Largo per Lukman Che aspetta la sovrapposizione Trenino Tierni Quanto corre Tierni La mette in mezzo Dove non arriva Werner Poi ancora Avers Ci arriva Rui Patricio Ma il cross di Trenino Tierni Ragazzi era Impressionante Ancora Tierni Al centro per Lanzini Dove c'è Neves Centrale Para Rui Patricio Neves Ex di turno Tra l'altro raga Porca miseria Il mancino di costa Sul palo Alla tua rigore No vabbè Ma raga Ma aveva già tirato fuori Aveva già tirato fuori Ma di cosa stiamo parlando Ma di cosa stiamo parlando Ma puoi dare un rigore del genere Che aveva già tirato fuori Cioè ragazzi Il contatto arriva qui Il contatto arriva qui Il contatto arriva qui La palla è praticamente già fuori Ma che rigore Ma non ha senso dare sto rigore Ragazzi Scusatemi Ha già tirato questo La palla è uscita Non so veramente cosa dire Purtroppo deve uscire Lanzini E entra Matip Scevolate forse Ma le posso risparmiare Chiaro Per carità Loren contro Onana Spiazzato Onana Il Wolverhampton È in vantaggio 1-0 E noi siamo Uno in meno Attenzione a questa palla Per Loren Davanti a Onana 2-0 Wolverhampton Non mi sembrava Non mi sembrava un filtrante Così imprevedibile Così pericoloso Niente da fare Niente da fare Niente da fare Eh Questa partita Si è messa veramente Ma veramente male Raga Tessina Lukman Prova a inventarci qualcosa Passa dal centro dove c'è Neves E poi di nuovo per Lukman Ma non c'è spazio Lukman in qualche modo lo trova Si chiude bene Però Il Wolverhampton Tessina Lukman La parola per Greenwood Questo è fallo Questo è fallo Brutto cattivo Brutto cattivo Che non sei altro Neves sul pallone Addirittura Aspetta fammi vedere qua Neves La gioca Werner Traversa Traversa di timone Werner Werner Didi Per Tierney Che spinge Sulla fascia sinistra Ancora Tierney La mette in mezzo Tierney Dove c'è Werner Greenwood prova a tenerla In gioco Esce lui Patricio La palla resta Lì e non riusciamo a tirare E non riusciamo a tirare Incredibile veramente Finisce qui signori Perdiamo 2-0 Perdiamo 2-0 E in questo caso L'espulsione Ci è stata veramente Ma veramente Ci è costata veramente cara Bisogna dare una lode Però a A Tierney raga Perché è un giocatore Incredibile Veramente un giocatore Incredibile Signori E' ufficiale L'accessione di Arnautovic Ci entrano 31 milioni Arnautovic Che si aggregherà A Liverpool A gennaio Nel mercato di gennaio Ragazzi siamo subito in campo Per questo terzo turno Di Carabao Cup Un po' di sostituzioni Le farò sicuramente Perché poi Subito dopo c'è il campionato Nel quale dobbiamo Tornare Alla vittoria E però direi Che il cambio Che faccio è Fuori l'anzì Dentro al Miron Voglio far giocare anche Rice Al posto Per il resto Per il resto però Signori Ci andiamo con l'undici Quasi titolare Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza West Ham Faccio giocare Per un'ana Quest'oggi Sì Ottimo recupero Pala di Tierney Perché Tierney Adesso ha spazio Tierney Preventarsi qualcosa Se lo metto sul mancino Tierney Ha un buon tiro Lo prova Tierney Entrata Trenino Tierney Ho fatto anche un troffero Non so cosa sia ragazzi Ma Una botta pazzesca Una botta pazzesca Di Trenino Che ha trovato spazio È avanzato Come solo lui sa fare Con una corsa Incredibile ragazzi Tierney è fenomenale Veramente Ma veramente Fenomenale Qui sicuramente Sicuramente Rivedibile Guaita Però bravo Tierney Veramente Nessuno prova a fermarlo Il tiro è veramente potente Guaita non riesce a respingerla Anzi Il tiro gli piega quasi la mano Rivediamo da questa Inquadratura Si vede meglio Non ho ben capito Cosa è successo Onestamente Sta di fatto che siamo in vantaggio Con Trenino Tierney Sì Avers L'hai visto Filippe Anderson Il pallone del tedesco È perfetto Forse un pelo lungo Filippe Anderson La mette in mezzo di palmetazione Dove c'è Werner Traversa E poi al Miron Non riesce a metterla In porta Abbiamo fatto l'abbonamento Veramente ai pali Ragazzi Dove vai Ma Tip dove vai Dove vai Ma Tip Bravo Che miseria Anche Kulibaly Anche Kulibaly ci si mette Attenzione Kulibaly su Baciuai Bravo Kulibaly Ma Li vogliamo Li vogliamo parlare Del palo Della traversa Di Timone Werner Azione strepitosa Bravo Rice Vai ripartiamo Werner Per Avers Dai raga Dai raga Avers davanti a Guaita Il tiro Di Avers Kaimano Avers Ripartenza Fulmina Del West Ham Signori Che dopo un paio Di passaggi sbagliati Ci abbiamo preso le misure Siamo riusciti a ripartire Ottima Palla di Timone Werner Qui è uscito male Il difensore Il terzino Del Crystal Palace Troppo facile per Kaimano Dal di lì Metterela col suo piede Felipe Anderson Fuori per Neves Di prima attenzione Per Rice Che la allarga Per Almiron Prima di inventarsi qualcosa Almiron Una finta Almiron Passa dal centro La mette in mezzo Dove c'è Timone Werner Attenzione perché c'è ancora Il West Ham Con Neves La gioca Rice E Guaita Si addormenta nuovamente Questa volta Forse non la vede Neanche partire Ma Declan Rice Firma il 3 A 0 Che mette In cassaforte Il passaggio del turno Contento per questo ragazzo Che nella realtà Signori È uno dei giovani Che gioca di più Nei migliori Campionati Qui onestamente Non ho ben capito Il tiro di Rice Forse ha girato Revitiamo da qua Forse ha stato deviato Un buon destro Non c'è stata nessuna deviazione Guaita Forse non la vede proprio partire Perché si addormenta Attenzione a Milivojevic Incredibile ragazzi Incredibile Gran gol di Milivojevic Gran colpo di testa Grande incornata Un ottimo cross Veramente Messo in mezzo Dall'esterno del Crystal Palace Rivediamo qui Ottimo lo stop Gran cross Nessuno che lo marca Se lo perdono tutti quanti Cosa su? No raga 4 a 1 Gol di Almiron Centro di Almiron Ma Onestamente non mi aspettavo Questo gol signori Scusate se non l'ho commentato Ma guardate il calcio D'angolo di Neves Non mi sembrava un gran che La palla è finita Sui piedi di Almiron Non so come Stato il fatto che Guaita ci arriva con la testa È successo un casino Raga 4 a 1 Fa lo stesso 4 a 1 Va bene così Faccio l'ultimo cambio Fuori Felipe Anderson Ragazzi Io Proverai a far giocare Zelensky Come esterno sinistro Non so perché Voglio fare questa cosa qua Attenzione Baciuai Con il destro Bucca Unana Troppo spazio Per gli attaccanti Del Crystal Palace Che mi fanno gol Sempre all'improvviso Con questi tiri Nuovamente I nostri difensori centrali Un po' troppo staccati Forse ci siamo Un po' lasciati andare Hanno giocato bene però Hanno fatto una bella azione Hanno fatto una bella azione Zai Baciuai Bravi loro Bravi bravi Forse abbiamo Un po' allentato La presa ragazzi Sul 4 a 1 Vi dico la verità Se no questo buco Nuovamente C'è Zai Il sinistro di Zai Onana Si fa trovare pronto Sul primo palo Dai ragazzi Non voglio prendere anche il terzo Per l'amor del cielo Pedro Leon La mette in mezzo Esce Onana Superman La mette fuori con i pugni Poi Arnautovic Se la controlla Finisce qui signori Passiamo il turno Abbastanza agevolmente Dai Parliamoci chiaro È stata una bella partita Tanti gol Però noi siamo stati Abbastanza tranquilli Tutto il match Il match La partita si è messa Subito bene Con quei due gol E poi L'abbiamo controllata Detto questo Finisce qui l'episodio Raga Veramente un peccato Aver pareggiato L'esordio in Champions League Si poteva fare Qualcosina di meglio Ma come detto Il Bayer Leverkusen È comunque un Un cliente ostico Nel prossimo video Però ragazzi Sfideremo il Real Madrid In Champions League Quindi mi raccomando Raga Non perdetevelo Spero ovviamente Che questo vi sia piaciuto Lo spero vivamente Perché sapete Quanto ci tengo A questa carriera D'allenatore Due giorni di riposo Abbiamo subito La partita di campionato Contro il Burnmouth Che dobbiamo assolutamente Vincere Abbiamo vinto il Crystal Palace Che ci è sopra Di un punto In campionato Comunque Detto questo Signori Noi ci vediamo Un prossimo video Mi raccomando Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Ciao a tutti ragazzi